Ciao a tutti, io sono Vincenzo Sannipoli e voglio lasciare con questo video la mia testimonianza per i servizi offerti dall'avvocato Oreste Maria Petrillo. Io mi occupo ora nello specifico di marketing su YouTube, quindi gestisco il marketing su YouTube per diversi clienti italiani e anche internazionali. E nel corso degli ultimi giorni avevo bisogno di stipulare un contratto con un mio nuovo cliente per risolvere appunto delle questioni con il cliente stesso. Ho trovato il contatto di Oreste grazie ad un amico in comune, in realtà uno dei miei clienti a cui gestisco appunto la pubblicità, che mi ha passato il contatto di Oreste dicendo che Oreste appunto era il top per quanto riguarda la contrattualistica digitale online. Quindi ho contattato Oreste, subito abbiamo avuto una chiamata e poi gli ho spiegato la situazione e nel giro di pochissimi giorni mi ha mandato contratto da far firmare appunto al mio cliente nella assolutamente perfetto, nei minimi dettagli, tutto quello che cercavo e volevo e quindi sono rimasto super soddisfatto. Consiglio dunque a tutti quelli che cercano un professionista, il miglior professionista per redigere contratti online, di affidarsi ad Oreste. Io farò così e continuerò a fare così per tutti i miei contratti futuri e casistiche future e quindi siete assolutamente in buonissime mani se vi affidate ad Oreste. Ciao a tutti!